DJ Nesks! Che bottino di caramelle! Le persone sono state super generose questo Halloween! Wow! Ho parlato troppo presto! F...f...f...f...f...f...fantasma! Lucerto dei saltellanti! Che succede? Cerchi qualcosa? Avrei dovuto immaginare che voi tre avreste trovato un modo per rovinarci Halloween! Ridateci le nostre caramelle! Giochiamoceli in una gara! Gare di velocità uno contro uno! Patetici super pigiamini contro i fantastici super cattivi! La squadra che vince più gare si prende le caramelle! Ci sto! E' il momento dell'eroe! E' ora di fare il pieno! Gara numero uno! Gufetta contro...me! Buona fortuna Gufetta! Ne avrai bisogno! 3...2...1...VIA! Attenta Gufetta! La pista potrebbe essere un po' scivolosa! Wow! 1-0 per i super cattivi! Tocca a te Jacko! Possiamo battere quegli imbroglioni! 3...2...1...VIA! Sembra una situazione appiccicosa! Non permette! E siamo uno a uno! Wow! Sì! Vai Jacko! Va bene Gattoboy! Preparati a perdere un sacco di caramelle! 3...2...1...VIA! Super Gatto Velocità! Questo dovrebbe ralentare la tua corsa! Siamo due a uno! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Fantastico! Non te l'avevo detto! Avevamo tutte le dita incrociate! Immagino che ci terremo le caramelle dopo tutto! Cosa? Non è giusto! Stanno prendendo le nostre caramelle! Non glielo permetterò mai! Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! Oh! Ecco qui Super Pigiamini! Grazie a Enew! Ma perché ci hai aiutato? Beh... Prenderò la mia commissione del 25%.